Cari ragazzi, inizia il documentario di Castel Sant'Angelo, Roma, un mausoleo di Adriano. Ecco qua, inizia questo documentario fantastico, lo decido io. Guarda, mi tieni a scattare per piacere un secondo. Per schietto quello, eh? Clemente XII, pavimento antico. Guardate qua che meraviglia. Wow! 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 l'ambulacro di buoni fai Sto arrivando, sto arrivando. Palle di cannone in pietra, cortile della fucilazione, cortile della fucilazione. Camminare, camminare. Questi sono i video in breve di Facebook. Tu devi essere veloce a leggere perché scompaiono subito. Reperti archeologici del mausero di Adriano. Guardate che meraviglia, siamo qui sempre alla potenza. Lui fa i commenti, bravo, bravo. E' famoso, no? Ci ha fatto tutto il giro, capito? Muro di Urbano Ottavo. Ti chiedo prima che vogliono, eh? No. E che dobbiamo fare? Quante volte? Ti vuole bere? ecco qui questo è proprio il mausoleo antico qui c'era la strada che ti portava alla tomba alla crepata di adriano della famiglia di tutti imperatori e non c'era solo lui si hanno tolto tutti i ferri meravigliosa eh? Atrium Dromos, rampa illicoidale in questo caso c'è la mausoleo antico quando si è entrato qui c'è il mausoleo antico Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Queste erano le carceri anche sostanze del Vaticano, dal mille in poi. Grazie a tutti. 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 Perché i gradini erano così? La spina da pisci. Grazie a tutti. Grazie a tutti. E' un po' in salita questa anima flavula. Grazie a tutti. 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 Bello questo. era tutto diverso. 1830. è andata di là? Grazie a tutti. 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 a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. e a tutti. Grazie a tutti. e a tutti. Grazie a tutti. e a tutti. e a tutti. e a tutti. Grazie a tutti. e a tutti. e a tutti. a tutti. a tutti. qui c'erano. e a tutti. si è fatta. anche a tutti. a tutti. andiamo? a tutti. e a tutti. a tutti. a tutti. a tutti. a tutti. a tutti. ma a tutti. a tutti. a tutti. a tutti. a tutti. a tutti. e a tutti. 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 su. a tutti. 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 si. a tutti. 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 l'arcangelo. a tutti. 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 a tutti.